L'Arezzo calcio femminile batte 3 a 2 e rimonta il Pavia, quarta forza del campionato. Al città di Arezzo è andata in scena una partita molto combattuta e giocata sul filo dell'equilibrio delle due squadre per tutti i 90 minuti. Le Amaranto vanno subito in vantaggio dopo appena 4 minuti, recupero in mediana di Verdi, poi Ceccarelli serve Gnisci e batte Groni. La reazione del Pavia non si fa attendere e all'ottavo un tiro di Accoliti colpisce la traversa. La stessa Accoliti pareggia al 26esimo su assist di Codeca e poi al 42esimo Codeca stessa assegna l'1 a 2. La squadra di Mister Testini ribalta lo svantaggio nella ripresa. Al 71esimo Orlandi conquista e trasforma il rigore del 2 a 2. Due minuti più tardi Ceccarelli firma il sorpasso deviando un tiro sporco di Razzolini. Le ragazze Amaranto così vincono ancora.